Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Eumetra, Piazza Pulita Formigli, la 7, sulle intenzioni di voto politiche nazionali. Vediamo che Fratelli d'Italia scende al 27,5% meno 0,2. Il PD cresce dello 0,3 al 19,9%, il Movimento 5 Stelle scende dello 0,2 al 16,2%, mentre la Lega cresce dello 0,1 all'8,2%. Poi abbiamo Forza Italia stabile al 7,9%, Verdi sinistra italiana 4%, azione di Carlo Calenda 3,9%, Italia Viva 3,2%. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, ma c'è l'ultimo, Europa, più Europa 2,5%, Unione Popolare 1,5%, Italexit 1,5%, noi moderati 1%, astenuti, indecisi 34,9%, altri partiti 2,7%. Grazie a tutti, arrivederci a presto.